ciao ciao amici oggi andiamo a presentare un po di recensioni ne faremo due o tre inerenti ad heisenberg chi è che se lo ricorda eisen succede c'erano questi di inesauri a ti distruggerò super eisen ti distruggerò super eisen in realtà lui non era così il cattivone era un tirannosauro così con questa faccia qua vedete ma questa andremo a recensire in un altro episodio e cosa faceva voleva distruggere assolutamente eisen quindi questa era la eisenberg quando era trasformato in navicella combatteva tentava di perforarlo ma questa qua era forte era forte come dinosauro e allora il com'era diviso la eisen c'era il combin 1 il combin 2 che anche quello vedremo con bin 1 e combin 2 eccoli qua in una versione un po particolare perché è stata un po lavorata la vedremo anche quella e cosa faceva combatteva questo tirannosauro era il nemico degli eisen ma poi dopo arriva lui che questo è un po una porcheria me lo sono dovuto far fare perché non c'era niente in merito arriva lui che usava sto frustino per combattere contro gli eisenberg e allora andiamo a vedere come prima recensione che è l'ultima uscita devo a vedere questo qua piccolino delle botoglie adesso ve lo rimetto in scatola ve lo faccio vedere e poi andremo a finire con vedere il combin 1 e combin 2 la trivella e in finale quello dell' hl pro questo qua un sesto sempre surprise e quindi facciamo due o tre recensioni sulle eisenberg e vediamo un po di cose andiamo a boxare questo qua amici troviamo nella eisenberg questo qua dell'evolution toy però troviamo il solito libretto di istruzioni con vedete le parti intercambiabili e cosa troviamo troviamo avere la figura della eisenberg della eisenberg anzi super eisen poi troviamo le sue due spade la spada le due spade qua dorate la lama e un po di mani se mani adesso lo leviamo e vediamo bene nel dettaglio e poi dopo lo vediamo pesiamo vediamo girare il peso del super eisenberg delle votori e 60 tegna in a super eisenberg voto e troviamo vabbè questo qua che è la mano con la lama che si va a incastrare a posto dell'avanbraccio del pugno quindi troviamo questa lama qua troviamo la doppia la sua doppia spada vedete che si può unire vediamo se ve lo riesco a far vedere che si può unire e diventa unica spettacolo è devo dire che le voto e questa volta ha fatto veramente un bel lavoro poi ha fatto questa spada qua ne troviamo due anche di questo ne troviamo due questa spada qua e poi ha fatto sei mani vediamo così sei mani col guanto quelle aperte quelle chiuse prove le mani non ci interessano passiamo alla figura prima avanti poi dietro non partiamo sempre dal basso vedete abbiamo i piedi si possono muovere sia all'altezza della caviglia ma anche sulla punta vedete ne ha fatto un doppio snodo ai piedi guardiamola così proprio dal vicino vi accorgerete che non è niente male andiamo anche dal dietro guardate anche parte finale qua fatto veramente un buon lavoro rapporto qualità prezzo questa ci sta veramente fatta bene i materiali si è tutta plastica ma non sembra quella plastica malvagia vediamo bene lo scoop del viso vedete qua sotto si vede almeno nel mio caso nella mia qualche piccolo difetto vediamo parte alta comunque in linea di massima porto qualità prezzo ci sta prodotto carino amici cosa facciamo adesso vediamo girare facciamo due giri con ogni arma tentiamo di cambiare anche un po la posabilità adesso poi ho messo la lama al braccio l'ho messa anche al contrario vediamo se riesco in fase di movimento a girarle la giusta ecco qui l'abbiamo messo con una spada in posizione abbiamo provato a cambiarla un pochettino facciamo fare anche due giretti così e poi li mettiamo la doppia spada unita lascia non lascia la lasciamola ricordo che queste delle voto e anche se il materiale non possiamo vedere tutta plastica è fatto bene guardate anche il sistema di snodo delle delle spalle per dargli molta posibilità niente male guardate si girano completamente tutte le spalle ottima stabilità niente male andiamo a concludere per la prima recensione riguardante aise di questo figure delle voto e ora amici questa prima parte riguardante la recensione di questo aise in quello delle voto e è finita spero che vi sia piaciuta e questa è solo la prima parte perché del per quanto riguarda e sembr come già detto molte volte vi faccio vedere adesso altre cose quindi diciamo prima fine prima parte aspettate che il cattivone vi deve dire qualcosa mi raccomando like al video pollice alzato e iscrivetevi al canale pollice alzato e scrivetevi parte 2 eisen parte 2 andiamo